Martedì 9 febbraio tutti i bambini del Teatro San Carlo di Napoli e i bambini della scuola di danza atterranno un meraviglioso spettacolo per i bambini di Haiti. Aiutiamoli, hanno perso tutto, hanno perso il sorriso. Vi prego, non mancate, acquistate un biglietto e diamo un sorriso a loro. Debutta la solidarietà al Teatro San Carlo di Napoli, martedì 9 febbraio. Non mancate, vi prego, guaiù.